Oggi una vittoria che serviva all'ambiente e che vi dà ancora speranze per salvarvi? Sì, è una vittoria che ci dà morale. Veniamo adesso da tre risultati consecutivi positivi per cui così potremmo affrontare meglio i play-out. Una partita mai messa in discussione, chiusa nel primo tempo, poi nel secondo tempo è arrivato il gol del 3-0 alla fine che ha chiuso matematicamente i giochi. Sì, diciamo che di fronte avevamo una squadra che non aveva più niente da chiedere al campionato, per cui è stata molto ma molto ben chiusa al primo tempo e poi successivamente abbiamo mantenuto solo un po' stesso palla. Nella prossima partita che sarà l'ultima di campionato affronterete la Fortis Altamura in casa appunto della Fortis, sarà una partita da vincere dove si dovrà battagliare? Certo, sicuramente. Io non so i risultati delle altre squadre oggi, però sicuramente dovremmo andare lì per cercare di prendere i tre punti.